www.pavia1tv.it Lombardia Live 24 che parte sempre, io lo devo dire per lavoro, perdonate l'autocitazione, io passo diverse ore al giorno in uno studio televisivo o radiofonico e devo dunque gestire naturalmente gli imprevisti che possono derivare dal fatto di dover parlare con responsabilità davanti a un microfono, possibilmente dicendo cose vere e sensate e questo naturalmente pur facendo da tanto tempo rappresenta sempre un motivo di stress, per carità ci sono lavori anche più usuranti del giornalista ma come dire uno con senso di responsabilità non deve mai sottovalutare l'impegno che ha nei confronti dell'editore o nei confronti del pubblico che poi è il principale editore e lo dico senza per questo usare una frase retorica. Io quando devo affidare a questa piattaforma le mie riflessioni paleso sempre davanti a me le reazioni che potrebbero essere del nostro direttore che è Diego Bianchi che voi tutti conoscete, il quale ogni domenica si raccomanda che questa rubrica sia leggera. Dice tu fai sempre argomenti seri, impegnativi, è giusto farli però almeno la domenica cerca di cambiare. Perché genera ansia a me questa indicazione editoriale? Perché io regolarmente arrivo alla domenica a quest'ora che non so di cosa parlare e allora molto spesso mi ispirano le chiacchiere del bar. Ora al bar sotto agli studi dove registriamo questa trasmissione oggi si parlava di una delibera, un'ordinanza del comune di Voghera che di fatto mette un giro di vite alle regole, al comportamento dei dipendenti comunali in modo particolare nelle dinamiche tipiche di ogni cittadino che abbia dei social, che è quello di sostanzialmente scrivere o commentare cose che riguardano magari l'operato stesso, in questo caso di un ente comunale, ma può essere un'azienda nel quale si lavora. Ora questa vicenda ha destato un vivace dibattito al bar perché dicevano eh ma non si può neanche più permettere a un dipendente di criticare l'operato di questa amministrazione oppure di in qualche modo esprimere delle critiche, di esprimere delle valutazioni. Addirittura diceva il giornale, questo è lo strappo della provincia pavese dell'altro giorno, addirittura dice che basta un like sbagliato magari a una mozione dell'opposizione, magari alla critica di un cittadino che dice ma questa città non è governata bene per andare nei guai. Ora faccio una premessa, io non ho letto questo articolo, non ho verificato la questione della delibera in questione di questo nuovo codice per i dipendenti che è stato varato dall'amministrazione comunale di Voghera nell'ultima seduta di giunta, mi riservo ovviamente di essere più preciso se sarà necessario in futuro, ma questa vicenda mi ha fatto venire in mente il caso di Serena Bortone. Ma cosa c'entra Serena Bortone con quanto scrive la provincia pavese sul comune di Voghera? C'entra perché il caso di Serena Bortone intanto ha tenuto banco per settimane, lo sapete, alla vigilia del 25 aprile lei aveva in trasmissione denunciato quello che a suo dire era un tentativo di censura da parte dei vertici della RAI che le avevano impedito di ospitare in trasmissione Antonio Scurati. Antonio Scurati è uno scrittore celeberrimo per alcuni libri che lui ha scritto di critica molto severa, scientificamente molto anche ricca di spunti sul fascismo, su che cosa ha rappresentato il fascismo e anche su una serie di luoghi comuni, pregiudizi, che ancora oggi albergano nella società contemporanea quasi a voler giustificare o comunque riconoscere dei meriti a un ventennio che invece, secondo Scurati e buona parte dell'opinione pubblica, è assolutamente totalmente da dimenticare. Ora, il caso Scurati fece grande clamore perché Serena Bortone andò in onda e disse che l'azienda non vuole che io legga questo monologo perché doveva essere un monologo sul 25 aprile e poi alla fine trovava il modo di andare a collegarsi a temi della stretta attualità e esprimeva critiche molto dure, l'accusa di essere in qualche modo fascista, sto banalizzando, ma il concetto è questo, l'attuale governo. E dunque la Bortone fece questo atto di leggere essa stessa il monologo. Polemiche su polemiche, alla fine che cosa è successo? La RAI, lo leggete da questo articolo del post di pochi giorni fa, ha deciso di sanzionare la collega la quale ha ricevuto sei giorni di fatto sospensione dal lavoro. Sia chiaro, è stato un caso molto politicizzato questo, ma io lascio perdere le questioni delle politiche. È ovvio che in base a chi parla di sinistra, di destra, di centro, ognuno poi usa i fatti a proprio uso e consumo per montare la panna, si dice in gergo giornalistico, per tenere alta l'attenzione e cercare di avere un po' di visibilità e magari anche qualche consenso. Su questa vicenda c'è stata un'audit interna, un'indagine interna da parte della RAI, si è cercato anche di ricostruire le vicende, alla fine la RAI ha detto che non c'è stata una censura e che la questione che aveva portato all'effettiva decisione di mettere in discussione la presenza di Scurati era quella che Scurati, che era tra l'altro in promozione per una produzione che sta facendo con Sky e comunque ha spesso libri in uscita, avrebbe potuto partecipare ma gratuitamente, senza quel gettone, si è detto di 1800 euro per un minuto di monologo, è uno degli slogan che spesso abbiamo sentito in queste settimane, avrebbe potuto farlo gratuitamente. Scurati smentisce di aver avuto questo tipo di controproposta, dice di essere stato censurato, Serena Bortone ovviamente nei fatti ha dimostrato la versione che in qualche modo l'ha più convinta e coerentemente lei poi alla fine è quella che ci ha messo la faccia e ha anche dovuto subire le conseguenze, il Fatto Quotidiano, giornale che noi tutti sappiamo non essere propriamente di destra o quantomeno non essere propriamente vicino a questo governo, uscì con un editoriale del direttore Marco Travaglio, il quale citando fonti interne alla RAI, confermò che effettivamente tutto nasceva da un fatto, la RAI contestava la presenza a pagamento di questo ospite ma non avrebbe avuto nulla se l'ospite fosse stato in studio gratuitamente e del resto quel monologo poi è stato letto da lei e da tutti gli altri, quindi se anche fosse stata una censura, io dico a chi ha cercato di ordire questa censura, cambiate mestiere perché non siete capaci di fare la censura, avete ottenuto l'effetto opposto, ma alla fine come è andata a finire questa vicenda? 6 giorni di sanzione, per che cosa? Non per tutta la pubblicità negativa che la conduttrice ha fatto in quella trasmissione, ma per un post che ha scritto sui social. Ora, io non so se questa questione in qualche modo sia stata poi alla fine corretta in corsa, perché potrebbe anche essere che per far placare le acque, per far calare le polemiche, si sia anche pensato a Giale Mazzini di derubricare tutta la vicenda, ha un comportamento messo in atto in modo improvvido da un dipendente pubblico che ha criticato l'azienda in cui lavora. Certo, se le cose sono andate realmente così e se nessuno qui ovviamente sta cercando di portare l'acqua al proprio mulino, voi capite che questa vicenda si sgonfia e il caso per il quale questa collega poi alla fine è stata sospesa, sei giorni di sospensione, quindi non c'è stato il licenziamento che aveva chiesto l'amministratore delegato, non ci sono state le epurazioni che alcuni leader politici avevano chiesto, sei giorni di sospensione, come purtroppo può capitare a chiunque lavori in una realtà complessa, per la vicenda dei post, quindi non per la trasmissione, quindi non sarebbe stato in qualche modo neanche un tentativo di fare una censura, ma semplicemente la critica per quello che lei ha scritto sui post. Comune di Voghera, quindi, è come la RAI. È una censura oppure no? Beh, in senso strettamente tecnico sì, nel senso che impedire a un lavoratore di esprimersi su qualsivoglia argomento e in qualche modo anche esprimere dei giudizi e delle critiche sull'azienda per la quale si lavora è sicuramente una censura, ma è probabilmente, sarebbe anche inopportuno farlo. E comunque, non che questo debba consolarci, ma è per cercare di, come dire, sgonfiare le polemiche, è una prassi che si usa in tutte le aziende. Io, non so voi, ma in tutte le aziende in cui ho lavorato, nel momento in cui ho sottoscritto il contratto di assunzione o di consulenza, ho dovuto leggermi un papiro di diversi codici, codicilli, nei quali mi si chiedeva l'obbligo, per esempio, della riservatezza, di un comportamento consono alle regole, rispettoso dei valori, bla 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 bla, all'interno dell'azienda e fuori, siccome faccio un lavoro che ha comunque una sua dimensione pubblica, una coerenza anche nel mio comportamento, nella vita di tutti i giorni, è ovviamente il divieto di divulgare notizie riservate o di canognare, diffamare l'azienda per la quale lavoro. Ora, nei dettagli poi si sa che si può nascondere il diavolo, ma attenzione, questa è la prassi che c'è in tutte le aziende, così come in tutte le aziende, quando si lascia un'azienda, si firma un ulteriore patto di riservatezza e di, come dire, buona creanza, che ti chiede, se non per tutta la vita, almeno per un certo periodo, di evitare di raccontare quello che tu hai vissuto all'interno dell'azienda, quello che hai visto, men che meno di rivelare dei segreti che possano essere strategici per quell'azienda o possano favorire la concorrenza. E' giusto tutto questo? Io non lo so se è giusto, e in questo momento direi che dopo 11 minuti di chiacchierata anche voi non avrete voglia di saperlo, però ve lo potete chiedere e potete dirci la vostra, scrivendo ai dati che vedete in sovraimpressione, e capire se davvero è così fuori dal mondo pretendere che un lavoratore in qualche modo, come dire, abbia un atteggiamento rispettoso, quantomeno, e non diffamatorio nei confronti dell'azienda in cui lavora, critico, o è davvero una censura sic et impliciter, così come censura è, da vocabolario, impedire a una persona in qualche modo di aprire la bocca. Ecco, è un tema molto molto complesso, è partito da una chiacchiera da bar, non arriverà sicuramente adesso ad una spiegazione ultima, ma probabilmente non arriverà mai, perché è uno di quei temi che attengono la libertà, i grandi principi anche etici, filosofici, sui quali gira il mondo, e che non sono facili da ingabbiare in regole certe, e soprattutto in risposte riassumibili in poco tempo. Però, se volete, su questo argomento torniamo. Ci vediamo domani. Buon lunedì. Grazie. Grazie. Grazie.